we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi parliamo della sfida numero 2 dei bucanieri ragazzi ci chiede di trovare il tesoro sepolto allora ragazzi l'unico consiglio serio che posso darvi è quello di giocare nella modalità rissa a squadre l'unico modo per avere un po più di chance nel trovare la vostra mappa del tesoro e con un po di fortuna ragazzi io l'ho trovata al nuovo quartiere vediamo se riesco a prenderlo il tesoro ragazzi l'ho trovata al nuovo quartiere voi cercate sempre di andare in una city che non è molto vicina a dove sponate e vai che non è molto vicina ragazzi a dove passa l'autobus ma che comunque abbastanza grande io vi consiglio sponde del saccheggio il nuovo quartiere spiagge snob a prodo avventurato insomma tutte quelle city che sono un po più lontane noi il tesoro l'abbiamo preso proviamo a quittare e vediamo se per caso ci dà la missione numero 2 delle sfide dei bucanieri quindi lo spray vediamo un po e ce la do ugualmente ragazzi ecco la tua ricompensa divertiti beh ragazzi questi sono i consigli che mi sono sentito di darvi vi ringrazio per avere guardato questo video un bel like codice creator xiodarone noi ci vediamo in live presto ciao